Buongiorno a tutti, ringrazio il sindaco di Ventotene, Gerardo Santomauro e l'onorevole Silvia Costa, cara amica, commissaria straordinaria del governo, per il loro invito e per il loro contributo per il recupero e la valorizzazione dell'ex carcere dell'isola di Santo Stefano. Il carcere di Santo Stefano e l'isola di Ventotene costituiscono dei capisaldi della nostra storia, sono dei punti di riferimento quando ad esempio pensiamo al manifesto di Ventotene che già immaginava un'Europa unita e poi è il passaggio di tanti protagonisti della vita della Repubblica Italiana, Sandro Pertini, Umberto Terracini, Rocco Pugliese, uomini coraggiosi considerati scomodi, dissidenti politici, persone che hanno fatto della resistenza al fascismo una delle loro battaglie, sono stati costretti a trascorrere parte della loro vita in questo carcere, molti addirittura le ultime ore. Il valore del carcere di Santo Stefano deve essere quindi considerato per il suo alto significato simbolico e il patrimonio culturale è una parte importante della nostra identità comune. Il vostro progetto va proprio in questa direzione, ha il nostro sostegno contribuisce a rafforzare quel senso di cittadinanza europea che proprio sugli scogli dell'isola di Ventotene ha posto le sue fondamenta. È lì che abbiamo avuto uomini e donne che hanno immaginato per noi un futuro diverso. Non dobbiamo dimenticare che questa è stata una terra di ispirazione per tutti coloro che consideriamo i nostri padri fondatori e le loro parole sono ora più che mai attuali. In un momento storico in cui le derive autoritarie sembrano essere tornate di moda dobbiamo proteggere e continuare a coltivare con più entusiasmo, con più convinzione l'idea e il progetto di un'Europa veramente libera e unita, culla di una cultura e di un'identità comune. Ed è il contributo di ciascuno essenziale affinché tutti possano sentirsi parte di questa comunità, rafforzare la nostra identità comune, essenziale, perché come abbiamo visto in questi mesi, in questi mesi difficili, di sofferenza, nessuno può farcela da solo. L'Europa non è un'entità astratta, l'Europa ha una grande storia, una storia comune che naviga nel Mediterraneo, scorre nel Reno, soffia sui Pirenei e tutti dobbiamo impegnarci a proteggerla, a conservarla, a rafforzarla, difendere il nostro patrimonio comune europeo essenziale, perché è anche il modo per mettere in risalto il patrimonio nazionale di ciascuno. E noi siamo un'unione con 27 Paesi che vengono tutti da lontano, che hanno una grande storia, una grande letteratura, un grande patrimonio da conservare. Grazie a tutti per il vostro lavoro, con l'impegno che naturalmente appena passato questa stagione così difficile possiamo incontrarci e continuare a sostenervi adeguatamente. Buon lavoro e grazie a tutti.